Amici, ascoltatemi bene fino alla fine perché è importante. CISL, Ganga, segnale positivo la rivalutazione delle pensioni al 2%, ho detto 2%, per ridare fiato alle famiglie. Sole 24 ore, anticipo della rivalutazione di 3 mesi per le pensioni con aliquota intorno al 2%, sì, ho detto di nuovo 2%. Corriere della Sera, anticipo della rivalutazione parziale al 2% per 3 mesi da ottobre a dicembre. Scusate, ma solo a me sanguiano le orecchie e gli occhi a sentire a leggere queste cose? Ma come possono sindacati e giornali reputare positivo, positivo al posto del bonus anti-inflazione 200 euro, un anticipo di rivalutazione di 3 mesi al 2%? 2% ragazzi vuol dire 6 euro al mese per un invalido parziale, per 3 mesi sono 18 euro, un aumento di 10 euro al mese per le pensioni minime, 20 euro per una pensione da 1000 euro, ovviamente stiamo parlando di importi lordi. Scusate, ma l'inflazione oggi non è circa arrivata al 6, 7, 8%, ma che se ne fanno i pensionati, tra l'altro i pensionati più in difficoltà di 6 euro, 10 euro, 20 euro, 30 euro che siano lordi al mese? Ma che decreto aiuti è? E per i dipendenti, perché la fregatura è anche per loro, per i dipendenti in busta paga, sempre al posto ovviamente del bonus 200 euro che ci faceva schifo, un aumento dell'1% della decontribuzione, 1%, ma cosa cavolo se ne fa anche un lavoratore di uno sconto dell'1% sui suoi puzzosissimi contributi? Ditemelo voi, ditemelo voi nei commenti cosa se ne fa. Il consiglio dei ministri, di questi gran ministri, avverrà probabilmente mercoledì o giovedì, ma se queste misure, soprattutto se queste aliquote, queste percentuali, saranno confermate, beh, a mio sindacabile, per carità, a mio sindacabile parere, questa sarebbe la pietra, tombale sulla definizione di governo dei migliori, e poi soprattutto la stampa, i giornali. Ma leggete questo titolo, Draghi mette soldi nelle tasche degli italiani tornando all'antico, un buon commiato per nulla elettorale. Scusate, ma quali soldi? Ecco, chi è arrivato fino qui, commenti qui sotto, ma quali soldi? Detto questo io vi ringrazio, spero che la rassegna un po' diversa, un po' più arrabbiata del solito, sia stata utile, fatemelo sapere come sempre qui sotto e vi rispondo appena possibile, anche se avete dei dubbi ovviamente. Un saluto, grazie. Da Mr. Lull e ragazzi, senza parole, senza parole. Grazie a tutti.